I miei rigoristi sono sempre due, oggi c'era Gambino, poteva tirarlo, Beppe, ma quando l'ho visto prendere la palla a Statella, di solito quando uno la prende poi è difficile che un altro, perché poi diventa un problema per chi lo batte, mi è capitato a me. Quando l'ho visto che la prendeva a Statella, che credo non abbia battuto nella sua carriera, lo vedo sempre all'inarza ai rigori, mi fa impazzire perché dico ma tu tagli insieme, li batti mai, perché se la fa addosso, in questo momento a Statella gli farei battere anche i falli laterali e poi andare a saltare, dunque quando l'ho visto che la prendeva, ero felice come una Pasqua.